In questo tutorial Pixel or Snippets, impareremo come utilizzare gli strumenti Draw Cutout all'interno di PixelRix. Gli strumenti di segna ritaglio possono essere posizionati all'interno della scheda ritaglio nel pannello degli strumenti. Gli strumenti Draw Cutout sono ottimi per rifinire le selezioni precedenti o per selezionare aree che gli strumenti precedenti potrebbero aver trovato difficili. In questo esempio, vogliamo rimuovere la barca dal suo sfondo. Cominciamo usando lo strumento di taglio AI. È un ottimo inizio e ora siamo pronti per utilizzare il nostro strumento di disegno per perfezionare la selezione. Una volta selezionato, ora possiamo utilizzare i cursori di dimensioni e morbidezza per personalizzare il nostro pennello. Possiamo aumentare o ridurre le dimensioni del nostro pennello e possiamo anche sfumarne il bordo per una finitura più nitida o più morbida. Ora ingrandiamo la nostra barca e contribuiamo a perfezionare la nostra selezione. Poiché il cursore è rosso, significa che stiamo rimuovendo dalla nostra selezione. Dipingi semplicemente sulle aree che desideri rimuovere. Quando viene selezionata la modalità KIP, il cursore diventa verde. Eventuali aree e ridipinte verranno riportate alla selezione. Ricorda di regolare le impostazioni del pennello se necessario. Grazie allo strumento Draw Cutout, abbiamo perfezionato perfettamente la nostra selezione. Ora che sai come utilizzare lo strumento Disegna Ritaglia, divertiti a creare con PixelRix.